Giuseppe, ciao Mario. Bene grazie, ben arrivato. Sono passato di qua perché vi devo raccontare una cosa, ho un'idea da proporti. Benissimo, accomodiamoci di là. Andiamo. Giuseppe, allora nel 2018 sono i 70 anni della Citroen 2 CV, cioè questo anniversario, e noi per EICMA a novembre vorremmo portare una moto ispirata da 2 CV e questa moto la farete voi. Sei contento? Filo, filo, bello. L'importante è che non sia soltanto prendere il motore della 2 CV e poi andarci a costruire intorno a una moto. No, noi vorremmo che fosse proprio ispirata la 2 CV, che ci fosse un pensiero maggiore. Pensare alla 2 CV mi viene subito da pensare alla Charleston e quindi sarà un grande piagere mangiarlo. Prenderemo dei tratti conici dell'auto e cercheremo di rivisitarla in chiave contemporanea, cercando di essere fedeli alla prima fonte di ispirazione e soprattutto al marchio Citroen. Noi siamo a maggio, ormai, e EICMA è a novembre, ce l'avete il tempo per farlo? Il tempo per le cose belle e interessanti si trova sempre, Filo. Grande, così mi piace. Guarda, io non vedo l'ora di tornare a vedere quello che avete pensato per questa moto. Ci sto. Dai, grazie. Pronto? Giuseppe, ciao Moreno. Ciao Moreno. Senti, domenica c'è il raduno nazionale due cavalli a Gonzaga. Che dici, andiamo a fare un giro per prendere un po' di ispirazioni? Ti potrei mandare mio fratello Enzo. Dai, perfetto. Ok. Allora, digli che ci vediamo domenica. Bene, facciamo così. Ti lascio in buone mani. Ciao, ciao Giuseppe. Mi sa che siamo proprio arrivati, arrivati. Attenzione, infatti qua inizio a vedere le prime due cavalli. Ci dovrebbe essere Ilaria all'ingresso. Ilaria sarà con lei che ci accompagnerà in questo viaggio nella storia della due cavalli. La nostra Wikipedia dei due cavalli. Eccoci. Ilaria, ciao. Ciao ragazzi, benvenuti a Gonzaga al raduno nazionale due cavalli. Fantastico. Dove parcheggiamo? Dove volete, più avanti, in mezzo alle bicilindriche. Andiamo. Allora, Ilaria. Per i 70 anni della due cavalli, noi proprio vogliamo far sì che nasca una moto ispirata a un'icona delle auto. Allora, la due cavalli è nata, se vogliamo, dalla prima ricerca di mercato. Pierre-Jules Boulanger, che era il direttore all'epoca di Citroën Francia, andava in vacanza in Auvergne, in un posto di campagna, e si accorse molto semplicemente che i contadini non avevano un'automobile. E allora scrisse la famosa frase voglio due sedie a sdraio sotto un parapioggia capaci di portare due contadini, 50 kg di patate e un paniere di uova attraverso un campo arrato senza rompere nemmeno un uomo. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, lui scrisse tutta questa frase e tu la sai a memoria. Eh beh, sono Ilaria Pidia, mica per caso. Mica per caso. Cioè, ragazzi. Che te ne pare, Enzo? Beh, le due cavalli sono, devo dire la verità, tutte belle, ma in generale le bicilindriche francesi hanno il loro fascino. Che poi bicilindriche richiama un po'... Il nostro mondo, il nostro mondo moto. Ma voi avete già scelto la base su cui lavorare come moto? Sicuramente una base classica. Sicuramente una base classica o comunque una modern classic, quindi una moto suffici può lavorare bene. Ok, cos'è che ti affascina di questa, Enzo? Ma sicuramente la forma dei passaruota. Il passaruota chiuso dietro è molto simile alle auto degli anni 30. Fin da subito la due cavalli è stata utilizzata sia per i grandi viaggi che per personalizzarla. Era come comprare un giocattolo più che una grossa impegnativa automobile. E quindi ognuno la faceva diventare alla forma dei propri desideri e delle proprie esigenze. In questo caso c'è questo bagagliaio particolare che sicuramente serve o per dormirci dentro o per avere più spazio a disposizione. Enzo, una moto per dormirci dentro non è proprio... Mi sembra un po' troppo. Però insomma, le forme sono veramente molto belle. Vediamo il motore, visto che qui lo possiamo vedere. Sì, alla fine questo motore non è mutuato da quello della moto, però tutti i principi e le ispirazioni sono quelle. L'architettura del bicilindico contrapposto è... Sì. Poi, l'evoluzione della due cavalli, qual è stata negli anni? Allora, in realtà la due cavalli è stata veramente fedele a se stessa. Anche le motorizzazioni sono rimaste le stesse. Fino a 600 mi pare. Sì, forse la potremmo chiamare un instant classic. Lei è entrata nella storia il giorno in cui è nata e non sono più riusciti a mandarla via. E allora io direi che è questa. È proprio lei quella a cui dovremmo ispirarci. Oltretutto, posso dirti una cosa, Enzo? Va bene le personalizzazioni, vanno bene i dettagli che cambiano, le modifiche, però questo colore qua, che è quello forse più diffuso, no? E tra l'altro il nome di questo Bordeaux, che noi lo chiamiamo Bordeaux, è Rouge de Laje. Rouge de Laje. E da dove deriva? Da il nome di un'altra auto d'epoca, che erano le De Laje. Sa pure questa, oh. Sa pure questa. Ilaria, ma da quando la 2 Cavalli è fuori produzione? Eh, ormai sono quasi 30 anni, perché è uscita di produzione il 27 luglio del 90. Quando era l'ultima 2 Cavalli? L'ultima 2 Cavalli era una Charleston. Sempre una Charleston? Sempre una Charleston. Degli altri moti, dei cavalli di battaglia, della 2 Cavalli, era De Chevo Joie de Vivre, Gioia di Vivere. E secondo me quest'auto rispecchia proprio questo moto, perché abbiamo un'auto colorata, divertente, pratica, e sono tutte le cose che si fanno quando si è felici. Ed è tondeggiante. Ed è tondeggiante. Quindi è un po' la stessa cosa della 2 Cavalli. Ma la vostra moto, avrà dei pezzi 2 Cavalli oppure resterà solo un'ispirazione, un'idea? Dei pezzi, pezzi 2 Cavalli? Non credo. In ogni caso seguiremo le linee guida e le ispirazioni progettuali che hanno portato a creare questo mito. Faremo un bel lavoro. Bene, ormai abbiamo capito che quindi il mondo è tondo. Il mondo è tondo. Io faccio un gesto simbolico, prendo il cappello di Ilaria e lo metto sulla tua testa Enzo. Ho appena ricevuto tutte le informazioni. Esatto. Ilaria Pidia ti ha trasmesso tutte le informazioni sul mondo 2 Cavalli, in modo tale che tu possa poi trasmetterle al team di South Garage e sviluppare questa moto che vedremo a Leikman. Noi possiamo andare direi. Bene. Ilaria è stato un piacere. Anche per me ragazzi. Grazie di tutto. Grazie di tutto, un bacio, buon viaggio e buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao.